Grazie Raffaele, sono anche molto contento, molto fiero che il Centro Studi Machiavelli sia entrato a far parte della Fondazione D, sono molto contento che l'abbiamo aiutata a sbarcare anche in Italia, spero che questo sia il primo di tanti eventi che si faranno a Roma, in Italia, che ci sia modo di far conoscere sempre di più questa fondazione anche nel nostro Paese, che possa diventare un tassello importante della vita culturale dell'Italia anche così come già è all'estero. Vengo al mio intervento, partendo da un dato, nel 1900, 123 anni fa, un abitante della terra su quattro viveva nel nostro continente, viveva in Europa. Oggi, a distanza di poco più di un secolo, malgrado ci sia stata una ingente immigrazione verso il nostro continente, quel dato è inferiore al 10%. Il calo non ha riguardato solo gli europei, ha riguardato tutte le popolazioni di origine europea, anche al di fuori dell'Europa. In Africa, per esempio, la popolazione bianca, quindi di origine europea, è oggi, malgrado ci sia stata un'esplosione demografica di quel continente, è oggi anche in valore assoluto e in numero inferiore a quella che era un secolo fa. Negli Stati Uniti d'America, nel 1950, la popolazione bianca, quindi di origine europea, assommava il 90% della popolazione. Oggi, a distanza di 70 anni, è al 60%. L'ultimo 10% è stato perso negli ultimi 10 anni, segno che c'è una forte accelerazione di questa tendenza. Ovunque nel mondo gli europei o i popoli di discendenza europea sono in calo, in crisi demografica. L'Italia è purtroppo esemplare in questo. La popolazione italiana ha raggiunto quota 55 milioni nel 1975. Da quel momento è sostanzialmente stagnante. C'è stato un aumento di qualche milione di unità dovuto unicamente all'arrivo di immigrati, da prima dall'est Europa, ora sempre più extra-europei, ma l'Italia è passata, il tasso di fertilità italiano è sceso sotto il tasso di sostituzione, come spiegava il nostro amico demografo, è di 2,1 figli per donna nel 1976. Oggi quel tasso è a 1,2. L'Italia è il fanalino di coda in Europa, è uno dei paesi messi peggio nel mondo, ma anche se andiamo al di là delle Alpi il quadro non si fa molto più roseo. Il tasso di fertilità medio in Unione Europea è pari a 1,53. Il paese dell'Unione Europea con il tasso più alto, cioè la Francia, è comunque molto al di sotto del tasso di sostituzione, 1,84. Dobbiamo perciò essere onesti con noi stessi, per quanti muri possiamo erigere, per quante ribatri, quante espulsioni possiamo fare, per quanti accordi con i paesi di transito possiamo fare, non si eviterà la sostituzione etnica se non riusciamo a riprendere, a fare figli, se non riusciamo a uscire dall'inverno demografico. Oggi abbiamo un continente, che è l'Europa, di 45 anni, l'età media in Europa, che è separata da uno stretto braccio di mare, in un'epoca in cui i movimenti intercontinentali sono più facili che mai, da un altro continente di ventenni, l'Africa, l'età media dell'Africa. E' un'altra brutta notizia, questi ventenni sono il doppio dei 45 anni, non c'è nessun modo in cui possiamo sperare, sul lungo periodo, di tenere fuori questi ventenni dalla Europa che si sta spopolando. Come sempre è stato nella storia, i popoli senza terra vanno a prendersi la terra senza popoli. Questo è il motivo per cui, per quanto importanti siano le politiche migratorie, le politiche demografiche di natalità lo sono ancora di più. I contenuti di queste politiche di natalità sono note, c'è un primo tassello che è quello che serve a garantire che i genitori possono prendersi cura dei loro figli, nel contempo continuando a lavorare, quindi mantenendo le fonti di sostentamento. Rientrano in questa categoria i congedi parentali, i part-time lavorativi, gli asili nido, le scuole, possibilmente a tempo pieno e così via. Poi ci sono anche un secondo tassello, sono gli aiuti economici, le agevolazioni fiscali e così via. Questo tipo di politiche nataliste ha dimostrato dei buoni risultati. Un'altra fondamentale misura che si può fare è quella di rivedere il sistema fiscale, secondo la logica del cozzente familiare, cioè suddividere le tasse che si pagano sulla base dei figli dei membri della famiglia, qualcosa che esiste in Francia, non a caso abbiamo visto il Paese come tasso di fertilità più alto, è qualcosa che sta nel programma di governo dei partiti della maggioranza e che è a costo zero essenzialmente, perché si tratta semplicemente di spostare una parte del peso fiscale dalle famiglie con i figli a coloro che i figli non li hanno. Non è una punizione, è una misura di equità. Se riconosciamo che i figli servono alla comunità per sopravvivere, allora non c'è nulla di sbagliato, anzi è giusto socializzare quelle spese. La Banca d'Italia ha calcolato che mediamente allevare un figlio dagli 0 ai 18 anni ha un costo di 150.000 euro, considerando che il salario medio in Italia oggi è intorno netto, tra i 1.500 e i 1.800 euro al mese, ci rendiamo conto che una famiglia monoreddito avrà pochissime possibilità, proprio da un punto di vista strettamente finanziario, di andare oltre al primo figlio. Come dicevo le politiche di natalità hanno dimostrato buoni risultati, oltre al caso francese possiamo citare l'Ungheria, il governo Orban è riuscito a risollevare in maniera visibile il tasso di fertilità del suo paese. Tuttavia se guardiamo a lungo periodo anche rispetto a questo tipo di politiche devo purtroppo esprimere una dose di scetticismo. Queste politiche si sono rivelate utili e importanti per riuscire ad attutire il crollo, magari a fare un piccolo rimbalzo rispetto al calo del tasso di fertilità, ma non sono riusciti a invertirlo di segno. Ripeto, tutta l'Unione Europea è ancora al di sotto, ben al di sotto dei tassi di sostituzione. Vale per qualsiasi paese, vale per la Francia, per l'Ungheria, vale per i paesi scandinavi con i loro stati sociali. Io penso che l'idea che lo Stato, la burocrazia, possa influire in maniera determinante sulla natalità sconta una debolezza concettuale di fondo, cioè l'idea che con le politiche, con le misure fiscali, con la burocrazia si possa andare a incidere in maniera determinante su quello che è il più naturale, il più biologico, il più animale degli impulsi dell'uomo, la riproduzione. Vi invito anche a riflettere su questo. L'ultimo baby boom che abbiamo visto in Europa è avvenuto nel dopoguerra, è avvenuto tra le macerie di un conflitto. I protagonisti erano degli uomini che avevano visto tutti i giorni sul campo di battaglia la morte in faccia, donne che sotto i bombardamenti avevano visto la morte in faccia. C'era molta incertezza per il futuro. Quando è avvenuto invece il crollo demografico? Negli anni 80, negli anni 90? La generazione che era adulta negli anni 90 ha vissuto probabilmente il periodo di massimo benessere e soprattutto di massima fiducia nelle prospettive per il futuro. Era l'epoca in cui si credeva alla fine della storia, mai più dittature, mai più guerre, mai più povertà. Magari si potrà diventare tutti ricchi con facilità investendo in borsa grazie alle nuove tecnologie che cominciavano ad apparire. Quale generazione è stata più felice e spensierata di quella? Eppure è stata la generazione che ha deciso di non fare più figli. Prendiamo la nostra di generazione, ci lamentiamo che è difficile e rischioso mettere al mondo dei figli e ci sono delle difficoltà oggettive, assolutamente ci sono. Ma quanti delle generazioni prima di noi avrebbero potuto aspettarsi nell'arco della loro vita di non dover vivere, di non dover combattere una grande guerra, di non dover passare attraverso un'epidemia, mi riferisco a un'epidemia vera, quella che uccide i ventenni, che uccide i bambini, che uccide i trentenni, di non passare attraverso una carestia, di non vedere una parte cospicua dei suoi figli morire in fasce, pochissime generazioni avrebbero potuto godere delle condizioni di cui noi godiamo. Noi siamo i discendenti di persone che qualche secolo fa, con i mezzi dell'epoca, attraversavano l'oceano con un cavallo, un carretto, un fucile e andavano a conquistare, a colonizzare un mondo nuovo e ostile. Noi ovviamente non ne saremo più capaci, però lo stesso sangue di quelle persone scorre nelle nostre vene. Cosa è cambiato? Abbiamo meno certezze verso il futuro, un futuro meno garantito? Abbiamo meno aiuti sociali? Abbiamo meno mezzi o comodità? Evidentemente no. Quello che è cambiato è che la nostra società oggi è ingessata, è una società dove non c'è più propensione al rischio, è una società che tende a sedare gli impulsi, gli istinti, lo spirito animale, gli spiriti animali come avrebbe detto Keynes. La politica oggi deve avere il coraggio di uscire dalla sua comfort zone, quella cioè che ci fa pensare che le politiche, le policy possano risolvere qualsiasi problema. Ci sono dei problemi più profondi che non vengono intaccati dalle policy. Per questo serve che la politica torni a occuparsi anche della visione del mondo, dei modelli di uomo e di donna che vogliamo proporre, della buona vita, dell'etica, deve tornare a prendere dei spazi che erano suoi, lo deve fare tanto più in questa epoca in cui la religione, almeno certe religioni, hanno abdicato alla loro funzione in questo senso. Dobbiamo avere il coraggio quindi anche di guardare lo stile di vita. Lo stile di vita è uno dei principali indiziati per questa perdita di vitalità e di fertilità che riguarda i nostri popoli. Lo stile di vita sedentario, lo stile di vita ripetitivo, privo di stimoli, a parte quelli artificiali dati dall'elettronica o date dalla droga. Uno stile di vita in cui, così come l'urbanizzazione ha tolto l'uomo, ha sottratto l'uomo dalla natura, oggi la rivoluzione digitale lo sta sottraendo anche alla dimensione urbana, richiudendolo in casa. Tramite gli schermi dei nostri dispositivi possiamo fare tutto, possiamo lavorare, possiamo intrattenerci, possiamo anche comunicare con gli altri. Gli spazi urbani smettono di essere in funzione dell'uomo, diventano qualcos'altro. Pensiamo ai bambini, è molto pertinente con l'argomento di oggi, non giocano più in strada ovviamente, le strade servono agli otto mezzi, i marciapiedi sono diventati stretti lembi tra la carreggiata e le piste ciclabili, i parchi, i parchi sono o latrine per canio, sono in mano a spacciatori e altre gente poco raccomandabile. Dove li troviamo? Quando non sono richiusi in casa o a scuola, dove li troviamo i bambini? Li troviamo in recinti, le cosiddette arie giochi. La reclusione è l'elemento distintivo del nostro stile di vita e non sorprende che noi abbiamo visto l'acme, il parossismo di questo nelle politiche di lockdown durante l'epoca covid e come altre specie animali che in cattività come i panda smettono di riprodursi, a quanto pare lo stiamo facendo anche noi. La politica deve avere il coraggio di promuovere stili di vita alternativi, stili di vita attivi all'aperto, lo può fare a partire dalle scuole, può cercare di limitare l'utilizzo dei social network da parte dei giovani, della pornografia online, il vero veleno che sta sterilizzando i giovani maschi occidentali? Questo è qualcosa che si può fare. Poi c'è un altro problema, quello della visione del mondo, come si direbbe adesso della narrativa. Quali sono i sistemi di valore che oggi vanno per la maggiore? Da un lato c'è l'individualismo edonistico, soddisfare i propri bisogni immediati, nessun legame o dovere verso il passato, nessun legame o dovere verso il futuro, verso ciò che ci circonda, soltanto se stessi nel momento immediato. Dall'altro c'è il millenarismo apocalittico, che è quello dell'idea del cambiamento climatico antropico che sta per portare all'imminente estinzione di massa. Questi due congiurano assieme, trovano il loro punto di congiunzione proprio nel promuovere la non riproduzione, nel promuovere l'estinzione. Da un lato non si fanno i figli perché, secondo queste nuove logiche faticose, è un sacrificio che risulta insensato, dall'altro si può nobilitare questa scelta con l'esigenza di salvare il pianeta. Se ci aggiungiamo anche l'ideologia woke, che demonizza la civiltà occidentale, demonizza la razza bianca, ancora una volta tutto va in quella stessa direzione di favorire la denatalità. L'ambientalismo è oggi l'unica autentica religione di Stato. All'ambientalismo i giovani, i bambini sono catechizzati dalla scuola, dalla cultura, dall'intrattenimento, dai cartoni animati, da qualsiasi altra cosa, dall'età di zero anni finché non diventano grandi. Il messaggio con cui vengono bombardati è che il mondo sta finendo ed è colpa vostra. Voi vedrete l'estinzione di massa, voi vedrete miliardi di persone morire, quello che dice ultima generazione, che ha un grande successo tra i giovani, non lo dico io. Ma voi mettetevi un attimo nei panni di chi da zero a 18 anni si sente continuamente rimbombare nelle orecchie e nella testa un tipo di messaggio come questo. Come fanno a crescere disturbato, disperato, traumatizzato? Noi dobbiamo dare un messaggio molto diverso ai giovani, un messaggio opposto ai giovani, un messaggio di ottimismo. Dobbiamo ricordargli che loro non sono delle monadi venute al mondo dal nulla, loro sono i discendenti e gli eredi di una storia, sono letteralmente i discendenti di coloro che hanno creato la civiltà più grande e più prospera che ci fosse al mondo. Quale cosa può dare più coraggio e più ottimismo ai giovani se non sapere questo? Noi dobbiamo fargli sentire questo legame che è un legame di orgoglio ma anche di senso di responsabilità verso chi ci ha preceduto e di conseguenza verso chi seguirà. Non spezzare la catena, tramandare quello che è arrivato a noi, tramandarlo a qualcuno. Quindi le politiche di immigrazione sono fondamentali, essenziali ma non sono risolutive in un contesto di inverno demografico quale quello che noi stiamo vivendo. Le politiche nataliste sono importanti, sono essenziali ma non dobbiamo dimenticare che questa crisi demografica avviene in una fase di relativo benessere e tranquillità. Più benessere e più tranquillità non può essere la soluzione, è giusto soprattutto perché può aiutare i ceti più deboli ma non è la soluzione se già ce l'hai. Non cambieranno le cose semplicemente aumentandolo. Dobbiamo intervenire su altro, sulle menti, sui cuori, dobbiamo contrastare questo veleno ideologico che sta passando nei nostri giovani, nella nostra società e dobbiamo avere il coraggio. Questo non è il momento dei messaggi moderati, della timidezza. Guardate a quello che fanno gli altri. Quello che sta passando nei giovani è un messaggio assolutamente radicale, irrazionale, estremista. Noi li vediamo convinti, vengono convinti alcuni giovani, molti giovani, sempre di più, addirittura a evirarsi o mutilarsi in nome di questa ideologia, a rinnegare tutto ciò che sono e il loro passato, a fare una penitenza esistenziale proprio per ciò che sono, per come sono nati, un peccato che non può essere mondato e sono convinti e persuasi a questo. Noi siamo ancora nell'epoca in cui Dio è morto, ma non esistono atei, esistono solo persone che sono orfane di qualcosa in cui credere. Gli altri l'hanno capito, gli stanno dando qualcosa di perverso ma qualcosa in cui credere stanno avendo successo. Perché per quanto perverso possa essere questa ideologia, come Kurtz nel celebre romanzo di Conrad, se una persona è vuota dentro, qualsiasi cosa riesce a rimbombare. Noi possiamo dare un altro messaggio, un messaggio che non è quello di distaccarsi dalla propria natura, non è un messaggio nichilistico, non è un messaggio che tu devi rinnegare e disprezzare ciò che sei, dal sesso al genere, alla tua origine etnica, nazionale, alla tua tradizione. Noi possiamo dare un messaggio di ottimismo, un messaggio che valorizzi ciò che una persona è e vi assicuro che questo messaggio sarebbe molto più forte di quello degli altri. Ma la politica ci deve credere e deve capire che è il momento di combattere prima di tutto una battaglia delle idee. In questo modo possiamo ridare vitalità ai nostri popoli e questo significa anche renderli di nuovo fertili. In questo modo possiamo togliere i popoli europei dall'inverno demografico e possiamo riportarli nella storia. Grazie.